Carpocapsa. Tutte le larve sono nate. È rimasto un residuo di volo di aduti compreso tra il 15% e il 30%. In settimana inizia l'incrisalidamento della nuova generazione ed è previsto l'inizio del nuovo volo fra circa 10 giorni. Pandemis. Stiamo raggiungendo il picco massimo di deposizione delle uova. Le larve nate vanno da un 40% al 60% e c'è un volo residuo compreso tra un 30% e un 50%. Eulia. È iniziata la deposizione delle uova che al momento va da un 2% a un 5%. Il volo degli adulti è compreso tra il 15% e il 25%. È previsto l'inizio delle nascite nella prossima settimana. Come avete sentito dalla Cleglia siamo ormai alla fine di questa prima generazione di Carpocapsa e quindi direi che nella maggior parte delle avvende può considerarsi conclusa la difesa di questa prima generazione che ormai dovrebbe essere finita. Vanno gestiti i casi particolari che possono sempre esserci. Cosa mi riferisco? Avvende che ancora catturano qualche farfalla. Ce ne sono. Avvende che sono invicinanfe di piante di noci, magari non trattate. Anche di queste ce ne sono. Avvende che sono invicinanfe di fonti luminose che favoriscono l'accoppiamento della Carpocapsa. Avvende che nell'anno passato hanno avuto grossi danni e quindi magari c'è una pericolosità maggiore quest'anno. Avvende dove da un monitoraggio vediamo ancora nascere qualche piccola larvettina. Ecco, in questi casi, che sicuramente sono pochi però, può essere valutato l'opportunità di continuare la difesa anche per questa settimana. I prodotti di riferimento sono quelli che già abbiamo usato e quindi il virus delle granulosi, il clorpirifos etile, quindi Durban o similari, oppure lo Spinosad. Per quanto riguarda invece altri insetti, parlerei degli afidi, perché su melo si nota qualche reinfestazione di afide grigio, anche se questo oramai con l'avvento del caldo dovrebbe da solo abbandonare gli impianti, ma c'è qualche infestazione anche di afide verde e di afide lanigero. I prodotti con cui intervenire nel caso in cui questi afidi dovessero produrre eccessiva melata che va poi a sporcare i frutti, sono il tepechi, soprattutto se abbiamo afide verde, mentre se abbiamo anche afide lanigero, darei la preferenza allo Spiro Tetramat e quindi al Movento. Altre due parole le direi sui ricamatori. Fino a qualche tempo fa, fino a qualche anno fa, questo era il periodo in cui ci interrogavamo su che prodotti usare contro i ricamatori. Per fortuna questa famiglia di insetti è praticamente scomparsa, quindi è giusto ancora fare un monitoraggio per essere sicuri che non vi sono infestazioni di ricamatori, mi riferisco in particolare a Pandemis o Archips, ma assolutamente trattamenti direi che in questa fase è inutile farli. Ora ridiamo la linea Cleglia che ci parla delle Drupacere. Per fortuna questa famiglia,